psoriasi e artrite psoriasica sono due facce della stessa medaglia, di quella che sempre più spesso viene chiamata malattia psoriasica. La componente dermatologica e quella articolare molto spesso sono presenti entrambe in tempi diversi, ma è importante che il dermatologo lavori insieme a stretto contatto con il reumatologo. Si parla di questi temi qui a Bologna nel corso di Rewind 2024, noi facciamo il punto con due veri esperti, con il professor Salvatore D'Angelo, reumatologo, e con il professor Stefano Piazerico, dermatologo. Professor D'Angelo, inizio con lei questa chiacchierata. Come mai psoriasi e artrite psoriasica sono così intivamente collegate? Qual è il legame e quale viene prima delle due? Allora, sono strettamente collegati, infatti oggi si parla anche di malattia psoriasica, che include tutte e due le condizioni. Vi è sicuramente un background genetico che ne favorisce lo sviluppo anche nell'ambito della stessa famiglia. Nella stragrande maggioranza dei casi l'artrite viene dopo la psoriasi, infatti circa il 75% dei pazienti sviluppa prima la psoriasi e poi successivamente l'artrite. C'è solo un 10-15% invece in cui ci sono prima le manifestazioni articolari e successivamente quelle cutanee. Questo aspetto da un lato ci dà un vantaggio della diagnosi, perché chiaramente il dermatologo e il medico di medicina generale hanno un vantaggio dovuto al fatto che non è tutta la popolazione generale, ma è la popolazione che ha queste manifestazioni cutanee. Però dall'altro lato rappresenta anche un limite, perché spesso non vi è una relazione stretta tra la severità dell'uno e dell'altro. Mi spiego meglio. Può accadere che un paziente ha lesioni psoriasiche minime, per esempio dietro regione retroaricolare in corrispondenza del cuoio capelluto, che non richiedono nemmeno la valutazione da parte di un medico, però questo paziente può sviluppare anche un'artrite psoriasica importante. Quindi nonostante ci sia questo link tra cute e articolazione, ancora oggi vi sono notevoli difficoltà diagnostiche. Una serie di dati ci mostrano che per esempio in ambulatori dermatologici circa il 10-15% di pazienti che sicuramente ha l'artrite, la diagnosi non viene a essere fatto. Professor D'Angelo, perché è importante che il reumatologo, quindi che cura pazienti con, in questo caso, artrite psoriasica, deve pensare anche alla possibilità che prima o poi arrivi la psoriasi? Perché chiaramente quest'altra condizione può impattare in maniera significativa sulla qualità della vita del paziente. Quindi io non posso da specialista reumatologo considerare solo un aspetto della malattia, scotomizzare le manifestazioni cutanee che in quel momento potrebbero essere anche predominanti, prevalenti su quelli articolari e compromettere la qualità di vita del paziente. Quindi è fondamentale la stretta collaborazione tra gli specialisti. Professor D'Angelo, che consiglio possiamo dare ai colleghi dermatologi riguardo a queste problematiche? È fondamentale chiedere, intervistare, ascoltare il paziente relativamente ai disturbi articolari. Parlare di dolore articolare non è sinonimo di artrite. Quindi se è vero che da un lato noi dobbiamo facilitare una diagnosi precoce, però nello stesso tempo stare attenti a non fare un overdiagnosi, una diagnosi sbagliata. Il paziente potrebbe avere un dolore articolare di altra natura, potrebbe avere un'artrosi, potrebbe avere una patologia degenerativa a livello di scale e ha la psoriasi. Quindi il dermatologo non deve commettere l'errore di associare dolore articolare in un paziente con psoriasi a diagnosi di artrite psoriasica, perché questo spesso non accade. Quindi laddove ci sono dei dubbi, l'invio del paziente al reumatologo è fondamentale per arrivare a una corretta diagnosi. Professor Pieserico, ritiene necessario un ambulatorio condiviso per trattare i pazienti con malattia psoriasica? Un ambulatorio nel quale lavori ben insieme il dermatologo e il reumatologo? E anche con quali ruoli? Un ambulatorio condiviso non è semplice da attuare, ma può essere molto utile sia per il dermatologo che per il reumatologo. Nella prima istanza, quando ci sono dei dolori articolari non ben inquadrabili, penso alle diasi differenziali dell'artrite psoriasica, in primis la fibromialgia. Nel secondo caso, cioè per il reumatologo, in quanto ci possono essere quadri clinici non facilmente decrittabili, diciamo dal punto di vista clinico, dermatologici, oppure va decisa una terapia che deve contemplare sia l'aspetto psoriasico cutaneo che quello articolare. Siete voi lì a Padova l'avete attuato, questo ambulatorio condiviso, volevo chiedere un po' qual è l'esperienza, innanzitutto dal punto di vista dei pazienti, ma anche dal punto di vista di voi medici, ovvero se c'è un valore aggiunto oppure se alla fine si perde un po' di tempo che si poteva magari dedicare ad altre attività. Il tema è importante, il tempo. Noi abbiamo sviluppato un modello unico, particolare, nel senso che non prevede la presenza del paziente. Quindi il paziente viene portato da uno specialista, il caso clinico viene portato e viene discusso insieme ai colleghi. Fra l'altro prevede anche la presenza di un gastroenterologo, viene fatto solo una volta al mese a proposito di tempo e si raccolgono i casi veramente complicati. Non la banale diagnosi di differenziale, ma il caso che ha evidentemente necessità di essere discusso tra colleghi, quindi non c'è il paziente. Durante il Covid questo modello si è sviluppato molto per ovvi motivi, il paziente non poteva girare le varie cliniche, quindi si portava noi stessi, il caso clinico, in discussione collegiale una volta al mese appunto con dermatologo, gastroenterologo e reumatologo. Il paziente come vive il fatto che lui alla fine non c'è, si pade la sua salute e lui è il grande assente? Ottima domanda, il paziente in realtà è rincuorato del fatto che qualcuno altrove si sta occupando di lui e si sta discutendo in maniera concreta tra specialisti un caso clinico appunto particolare.